Il mio nome è Emanuela Fissarelli, io sono un biologo, mi sono laureata all'Università degli Studi di Bologna nel 1988 e già da giugno 1990 ho frequentato i laboratori dell'Istituto Populatico e Sperimentale della Cruz del Molise, la prima come volontaria, poi come contrattista, ma partecipando ad un concorso nel 1991, sono stata assunta dal 1 febbraio 1992 come assistente biologo perché questa era la qualificata di allora e da subito sono stata assegnata al reparto di sierologia. Nel 1992 l'inizio proprio del piano di eradicazione in Italia della bricellosi ed essendo nel reparto di sierologia mi è stata a lavorare da subito con la bricellosi e ho continuato attraverso progetti di ricerca, altre che attività rutinarie, interfacciandomi con gli esperti nazionali più importanti. All'epoca il centro di referenza era stato assegnato all'Università di Fissa, quindi ho collaborato a lungo con il professor Domenico Cerri e per poi lavorare all'interno del nostro centro di referenza quando ci è stato assegnato nel 1999. E' dal 2009 che sono diventata responsabile del centro di referenza per le bricellosi, designato anche laboratorio di referenza per le bricellosi nel 2002 quando è stato istituito il network dei laboratori europei di riferimento e quindi da tantissimi anni, sono 30 anni circa che è il lavoro nell'ambito della bricellosi, sia dal punto di vista di attività diagnostica rutinaria che con progetti di ricerca nazionali e internazionali, collaborando con il laboratorio di riferimento dell'olio, perché il risultato profilattico è anche il laboratorio di riferimento dell'olio e oggi VOA per le bricellosi. Per descrivere la situazione della bricellosi in Italia dal suo punto di osservazione, che evoluzione ha avuto la malattia negli ultimi anni? La bricellosi è una malattia sottoposta da parte della comunità europea, dell'Unione europea oggi, sottoposta da prima a piano di profilatti e dal 1992 a piano di eradicazione. Praticare una malattia significa eliminare la malattia dal territorio, dallo Stato membro in questo caso e tutte le regioni e province italiane si sono adoperate dal 1992 in poi alla eradicazione della malattia e molte delle regioni italiane sono riuscite ad eradicarla già da molti anni. Quindi abbiamo situazioni come quella della Sardegna, che è stata la prima regione da eradicare la malattia, dove la malattia non è più presente e quindi continuano solo con dei piani di sorveglianza. Lo stesso vale per le regioni del nord Italia, del centro Italia e dal 2022 anche diverse province delle regioni del sud hanno raggiunto lo stato di indennio. Purtroppo la malattia persiste in alcune regioni totalmente, come la Sicilia. In altre regioni del sud, come la Calabria, la Campania e la Fuglia, in determinate aree vengono circoscritte, con una prevalenza ancora importante. Parlo della Sicilia, dove la prevalenza della malattia nella Sicilia orientale, quindi nelle province di Messina, Catania, Ragusa, si attesta ancora su valori importanti. Parliamo di prevalenza intorno al 10% della bricellosia di caprina, un po' più basso della bricellosi bovina, ma comunque ancora importante. In Calabria la situazione è migliorata e anche lì la presenza è circoscritta alle province di Crotone, direzio Calabria. Il punto più, i punti più difficili da trattare, da eradicare, probabilmente perché non legati solo allo stato sanitario degli animali, ma anche ad altre problematiche, sono la provincia di Caserta e la provincia di Coggia. In queste due province c'è una presenza importante della malattia, nella provincia di Caserta, soprattutto nella popolazione bufalina, dove in questo momento abbiamo una prevalenza che si aggira intorno al 20%, e nella provincia di Coggia è limitata la zona di Arganica, ma anche lì con una presenza importante della procedura. Quindi diciamo che il piano di eradicazione è iniziato nel 1992, ma è iniziato già nel 1964, con la prima direttiva che chiedeva di applicare dei piani di profilassio, quindi profilassia attraverso anche la vaccinazione, che poi seguita dal piano di eradicazione, non prevede la vaccinazione, ma prevede l'eliminazione della malattia completamente dal territorio, senza l'uso della vaccinazione, e hanno portato a una buona situazione epidemiologica nell'intero territorio nazionale, tranne che in questi punti precisi. Cosa è successo nel frattempo? Nel 2006, il Consiglio della Salute, rendendosi conto di questa problematica di più pressante solo in queste quattro regioni, aveva messo su un'ordinanza ministeriale che aggiungeva delle misure ancora più stringenti al piano di eradicazione già in essere, per la brucellosi di carina nel 1992, per la brucellosi bovino-bucalina nel 1994, quindi dopo oltre cent'anni di applicazione del piano, ci si rese conto nel 2006 che la presenza della brucellosi in queste quattro regioni era ancora molto importante. Quindi facendo un'analisi delle possibili cause che costavano ancora ad avere questi livelli di prevalenza, si individuò la motivazione nella presenza sicuramente importante della malattia, ma legata anche al fatto che l'eliminazione degli animali è chiaro, penso a tutti, che la realizzazione è composta il controllo serologico degli animali e l'abbattimento degli animali positivi. L'abbattimento di questi animali venivano non in tempi utili per l'eliminazione dell'infezione dall'alimentamento stesso e quindi con un'ordinanza ministeriale del 2006 si decide di implementare delle misure più stringenti per accelerare l'eliminazione dell'infezione dall'alimentamento stesso. Questa ordinanza che poi doveva durare tre anni, poi è stata prorogata nel 2012, poi è stata prorogata nel 2015, poi è stata prorogata nel 2017 ed è stata prorogata l'ultima volta anche nel 2022, ha di volta in volta aggiunto delle misure sempre più stringenti che miravano all'eraditazione di queste regioni dove c'era la persistenza così elevata dell'alimentamento. In tutti questi anni cosa è successo? Che sono stati messi su dei sistemi informativi a livello nazionale, del Ministero della Salute, quali Sanan, Siman, che hanno consentito di identificare tutti gli animali di queste quattro regioni, sia attraverso le marche auricolari come tutti gli altri nello stato italiano, ma anche attraverso dei boli endoiluminali che hanno consentito di tracciare tutte le movimentazioni, essendo le movimentazioni sicuramente la prima causa di riproduzione dell'infezione nell'allegamento. Quindi l'introduzione dei sistemi informativi, il tracciamento delle movimentazioni, i modelli per la movimentazione degli animali sempre più dettagliati e informatizzati, hanno effettivamente consentito di eliminare, di arrivare all'eraditazione della malattia anche in queste quattro regioni. La regione, dove ormai l'eraditazione è stata raggiunta in quasi tutte le province, sono di Lecce, Bari, Taranto, Brindisi e quindi solo nella provincia di Foggia abbiamo ancora la preferenza dell'infezione. Ci sono alcune regioni, alcune province scusate, della campagna come Avellino Benevento, anche esse hanno rassunto la qualificazione di un M e quindi la brucellosi, grazie all'applicazione di queste ulteriori forze, sia economiche che risorse fondamentali e epigazionale, hanno consentito di eradicare la malattia da tutta la parte centrale dell'Italia e anche in alcune province dell'Italia. L'esperienza della brucellosi, dal punto di vista dell'impatto sulla salute umana, ci sono dei progetti in tal senso ascrivibili all'ambito del One Health nel contesto socio-zootecnico? Allora, per quanto riguarda la brucellosi, diciamo che non c'è un vero e proprio piano di controllo, non c'è una vera e propria correlazione con la parte umana. Infatti io stesso ho detto, ma perché non considerare anche la brucellosi come una tossinfezione alimentare? La correlazione è ben evidente per malattie come la salmonellosi, le chinococcosi, gli stereosi, gli ambilobatteriosi, perché vengono trasmessi attraverso gli alimenti. Per la brucellosi non c'è la stessa considerazione, di conseguenza non ci sono piani di controllo sugli alimenti che potrebbero trasmettere la brucellosi all'uomo, così come permeate i tossinfezioni. Io facendo parte del gruppo Jonas dell'Esta, ho segnalato all'Esta più di una volta questa carenza, anche perché ritengo che l'Europa in primis l'Italia, in conseguenza, dimettono dei grandi capitali per l'eradicazione della malattia, appunto per preservare la salute pubblica. Non è che lo fanno per la sanità degli animali, perché come è noto la brucellosi nell'animale che provoca la borsa alla prima gravidanza, ma anche gli animali con la brucellosi possono contribuire tranquillamente. Quindi, veramente da persona che lavora da tanti anni con la brucellosi mi sono sempre chiesta come possa essere che non ci sia questa correlazione tra la parte umana, la parte veterinaria, per quanto riguarda la brucellosi. Quello che viene fatto, si è considerata giustamente una zoonosi, quindi come sale inserita nel progetto zoonosi dell'Esta e annualmente vengono raccolti dei dati di attività collaterali che vengono svolte oltre ai piani e delle pubblicazioni tra le umane. Il dato del 2021, perché i dati per l'umana vengono raccolti dalle CBT e dall'Esta e vengono pubblicati a distanza di un anno rispetto alla raccolta, quindi l'ultimo dato di tanti umani di brucellosi è del 2021 e per l'intera Europa si parla di 172 casi. Cos'è cambiato nell'assetto normativo delle leggi a partire dal regolamento di polizia veterinaria fino ad oggi nei riguardi della brucellosi sia bovina che ovina? Secondo lei la normativa è ancora carente in qualche aspetto? Il regolamento di polizia veterinaria è del 1934 e stabiliva solo l'obbligo di denuncia anche solo in caso di sospetto di uccello stupolini, bocalini, caprini e cilini e quindi chiedeva semplicemente la denuncia è l'applicazione di specifici provvedimenti genicosanitari, quindi erano ancora gli albori diciamo di tutto quello che è successo poi. Come ho già detto nel tempo siamo passati con la direttiva del 1964 e quindi ha cercato di controllare la malattia attraverso l'uso della vaccinazione e per arrivare poi nel 1992 al piano di eradicazione. Il piano di eradicazione che per tanti anni è stato gestito attraverso gli esami di laboratorio. Cos'è cambiato? E' cambiato principalmente questo che siamo passati da un controllo, un controllo della malattia attraverso la vaccinazione, il contenimento della malattia, un eradicazione, un eradicazione basata su diagnosi fierologica e abbattimento che ha funzionato per tante province e regioni ma siamo passati poi a un'ordinanza ministeriale che ha aumentato le vinture quindi ha rispetto ancora di più il controllo, ha aumentato il controllo delle vinture per arrivare poi nel 2016 al famoso regolamento 429 che ha cambiato un po' tutta la visione della sanità animale. Nel 429 cosa è successo? Che le malattie sono state categorizzate, cioè sono state riunite in un unico regolamento tutte le malattie infettive, le principali malattie infettive e sono state create delle categorie, la categoria A, la categoria B, la categoria C, la categoria B e quindi le misure da aggiustare su queste malattie sono state stabilite in base alle categorie. Nel caso della brucellose stagione una malattia sottoposta a piano di eradicazione è stata categorizzata nella B e con un successivo regolamento delegato del 689 del 2020 che è la normativa assolutamente vigente del Consiglio del territorio nazionale, sono state indicate le misure da adottare per eradicare la malattia e per mantenere il la qualifica di indenne laddove la malattia è stata già adottata. In queste misure la grande novità di questi regolamenti qual è stata? Che è passato da una diagnosi serologica pura, semplice, a una diagnosi epidemiologica. Quello che oggi si chiede al servizio di questo veterinario è di non considerare un animale positivo sia erologicamente un animale infetto, cosa che era previsto dal precedente credo, ordinanza e direttivo. Era stato definito infetto un animale che avesse un livello di anticorpi superiore alle 20 unità internazionali per ammelli. è una misura che veniva fatta con la fissazione del complemento. Qualunque animale che avesse una quantità di anticorpi superiore alle 20 unità internazionali poteva essere considerato infetto e pertanto abbassuto. Oggi con i nuovi regolamenti questo non è più vero. Un animale positivo serologicamente è un animale sospetto. Questo sospetto deve essere confermato prima che l'animale possa essere appartuto. Quindi oggi si chiede al veterinario, ad un servizio veterinario, di verificare se effettivamente lì c'è entrata l'infezione, come è entrata, anche animale infettato, se l'animale presenta dei sintomi clinici, se ha una correlazione con un altro focolaio, con un altro allenamento infetto e se ci sono le condizioni per cui quella possibilità serologica può essere considerata un'infezione. La grande novità del regolamento 429 e il suo regolamento delegato 689 del 2020 è appunto l'introduzione del caso sospetto e del caso confermato. Questo è ben definito in uno degli articoli del regolamento 689 dove si elimina la possibilità dell'abbattimento solo sulla singola possibilità serologica a meno che non ci si trovi in una provincia come quella di Caserta dove la connessione epidemiologica è ben evidente e quindi una volta creato il cluster dell'infezione è ovvio che qualsiasi allevamento dove insorga la possibilità serologica può essere considerato direttamente un caso confermato, un caso infetto. Ma in tutte le altre situazioni la sola possibilità serologica non consente più di abbattere il capo. Quindi è necessario che ogni capo positivo serologicamente venga considerato un caso sospetto di infezione e quindi devono essere messe in atto una serie di misure che consentano di confermare il caso sospetto. La conferma come può essere fatta può passare attraverso una connessione epidemiologica, quindi la prima cosa da fare è avviare un'indagine epidemiologica. Per un'indagine epidemiologica è possibile attraverso i sistemi informativi messi a disposizione dei servizi veterinari, è possibile fare un traceback degli ingressi degli animali in quell'azienda nel prossimo anno e quindi verificare se sono stati introdotti animali provenienti da provincia sospetto e da allevamenti sospetto. E' possibile verificare se c'è in comune ad esempio un distributore di alimenti, di fieno, di un macellatore comune che attraverso il furgoncino avrebbe potuto trasportare l'infezione da una azienda all'altra, o comunque tutte le condizioni che possono avere introdotto l'infezione nell'alleramento. E questo si può fare mantenendo in vita l'animale isolato naturalmente ed inspicato dagli altri, ma è possibile durante l'indagine epidemiologica, fino a che il caso non venga confermato, mantenere in vita l'animale ed avviare una serie di testi che possono essere fatti anche sull'animale in vita, ad esempio se si tratta di bovini o anche di novitabrini, se sono in lattazione fare un esame sull'acqua e quindi vedere se l'animale è il miniatore di frucella, se è un animale che ha pastorito da non più di 30 giorni, può effettuare un tampone vaginale e quindi verificare la pretensione di un'infezione uguale di frucella e quindi l'insieme di tutte queste informazioni potrebbe consentire di definire l'animale infetto o no, quindi confermare un'oltre stesso anche mantenendo in vita l'infezione. Naturalmente saranno necessari dei controlli successivi sia sull'animale positivo che sull'istabilimento, ma come vedete è un nuovo approccio rispetto alla diagnosi della malattia rispetto al precedente, pur essendo sempre più in via di francesione, quindi siamo che tende all'eliminazione della malattia attraverso l'animale infetto, ma oggi si elimina solo l'animale e l'infezione. Suo osservatorio privilegiato, i metodi diagnostici in uso per la brucellosi sono adeguati? Bisognerebbe aggiornare qualcosa? Avete sentito la critica che è stata mostra nei confronti degli esami serologici attualmente disponibili ed impiegati sul territorio nazionale. Quest'anno la sfera di francesione rapida e la situazione del conferimento. Considerando il numero di animali che deve essere esaggiato, cosa si chiede a un test? Si chiede che sia sensibile, che sia specifico, semplice da utilizzare, che sia economico. Il test attualmente è in uso per lo screening della brucellosi e la servizio in azione rapida e questo test ha in seguito queste caratteristiche. È un test che ha una sensibilità, una specificità intorno al 99%. È un test poco costoso perché è molto rapido, non richiede stimentazioni particolari, basta mescolare una goccia di antigene con una goccia di fiero e entro 4 minuti osservare la reazione che viene. In caso di agglutinazione, quindi in caso si formino le pasticelle agglutinate nella goccia, il campione è positivo, se non c'è agglutinazione il campione è negativo. Quindi dal mio punto di vista questo rimane sempre il test più valido e nonostante i suoi anni di servizio, perché il rossa bengala è stato messo a punto negli anni 70, quindi viene utilizzato da 50 anni, però è un test ad oggi molto valido, conveniente, semplice da fare, che può essere utilizzato anche in tutti i laboratori periferici, e anche quelli meno stressati, che richiede veramente una strumentazione minima per il suo. Test di fissazione è il complemento che il test vi conferma, che oltre ad essere un test qualitativo, come quello aveva fa bengala, è anche un test quantitativo, è un test un po' più sofisticato. Infatti, come centro di referenza, organizziamo i circuiti interlaboratori annuali che mettiamo a disposizione sia la FAR che la FDC nel nostro circuito, ma anche le litalatte, perché nelle province indenni è possibile utilizzare anche le litalatte sui bovini in attrazione, se almeno per quarti della mandria in attrazione. e quindi il test di fissazione del complemento abbiamo contesta che non viene utilizzato in tutti i laboratori italiani degli stili oltre profilattici, perché appunto è un test più complesso, ma è un test di conferma, quindi che si esegue su un numero meno elevato di campioni. E se un test come la FAR, semplice, economico, può essere utilizzato, viene utilizzato in tutti i laboratori degli stili oltre profilattici, tanto è vero che al nostro circuito interlaboratorio partecipano circa 70 laboratori per gli anni. La bottiglia sulla brucelina, che può essere utilizzata solo per rio di caprini, almeno per l'applicazione dei piani, la brucelina può essere utilizzata come conferma nei bovini in bovalli. Quindi i test, diciamo, sono questi anche a livello europeo e a livello normativo. La necessità di test più sofisticati, dal mio punto di vista, non c'è, anche se a livello di ricerca da anni lavoriamo per individuare degli antigeni, non un antigeno intero come in toto, come è oggi quello che viene utilizzato, ma semplicemente per la conferma di laboratorio di casi sospetti falsi. Perché, come saprete, la brucella ha un LPS sulla sua parete che è il principale antigeno di virulenza che è comune e molto simile a quello di altre interbatteriacee come la liestinia, come i colli, principalmente il suo competitor, cioè il suo più vicino parente in termini di LPS è la liestinia interocolitica 9. E quindi, da degli altri anni, la nostra ricerca è orientata ad individuare eventuali antigeni di virulenza importanti che siano immunocompetenti per un'analisi differenziale con gli astini e laddove si abbia una positività serologica non riconducibile ad infezione da coscienza, quindi dove si sospettino delle false positività. Purtroppo ad oggi, pur avendo individuato alcune proteine di membrana che sembrerebbero essere competenti, in realtà quando poi siamo andati ad applicarle con le proteine ricombinanti attraverso i test e l'alpha siamo andati ad applicarle su animali in campo non abbiamo avuto dei buoni risultati. Il LPS rimane l'antigene di virulenza più importante e quindi anche quello che consente di distinguere meglio i veri positività e i falsi positività tutt'oggi rimane ancora più importante. Quindi l'uso di una brucella intera perché come antigene e questi antigeni denominati utilizzano la brucella intere e come antigene in corpuscolato colorato mi sono sospensioni lasteriche che sono utilizzate come antigene per usare serologiche o come LPS puro di test e l'alpha rimangono gli antigeni più importanti e più immunocompetenti per le nostri cereologiche. Mi chiederete perché non viene considerato test ufficiale anche il test diretto il motivo è che il test diretto che poi è l'isolamento soprattutto che la PCR hanno una sensibilità veramente massomatta attualmente stiamo facendo un lavoro per dare un numero a quello che ad oggi è stato diciamo un po' indicativo come percentuale di sensibilità del test diretto rispetto a quello indiretto che si attesta intorno al 40% la diagnosi diretta quindi il test di isolamento non viene considerato un test di conferma non viene considerato un test ufficiale ma è un test molto utile per la conferma di allevamento nel senso che anche se un solo capo dovrebbe essere sui sali positivi o batteriologicamente all'interno di un stesso focolaio è ovvio che conferma immediatamente il focolare stesso quindi l'importanza non è l'indagine individuale ma l'indagine di allevamento e poi cosa ancora più importante è la possibilità di una etudemia melodica molecolare che è la possibilità di analizzare mediante il UGS cioè il sequenziamento dei batteri isolati grazie anche a una banca di genomica di DNA depositati e correlare il DNA sequenziato dai singoli animali correlarlo ad eventuali altri isolamenti e altri sequenziamenti quindi aiutare nell'immagine epidemiologica e riuscire a poter correlare i focolai e l'origine dell'inferenza quale azione o provvedimento secondo la sua esperienza può essere d'aiuto alle nuove generazioni di veterinari in questo settore il fatto che oggi un ricambio dei veterinari dei servizi veterinari è stato importante perché ho vissuto un po' il passaggio oggi sono stati messi a disposizione ai servizi veterinari strumenti informatici davvero importanti come dicevo prima sono disponibili sistemi informativi come il Sanam come il Siman che consentono di fare delle indagini epidemiologiche approfondite con dati molto esattivi quindi oggi secondo me la cosa più importante la marcia in più che hanno i veterinari rispetto a quelli del passato è proprio questa cioè la possibilità di indagare attraverso i sistemi informativi e individuare l'origine delle infezioni questo potrebbe consentire dal lato di bloccare eventuali altre uscite di animali bloccare sapere in anticipo conoscere in anticipo le movimentazioni rintracciare ad esempio poco là che poteranno essere spuggiti cioè l'utilizzo dei sistemi informativi oggi dal mio punto di vista è la marcia in più messa a disposizione dei servizi veterinari che se ne farà un buon uso consentirà di arrivare nella riflessione rapidamente con efficacia pensate solo ai pascoli cioè la georeferenzazione dei pascoli è stata una cosa importantissima prima gli animali si alimentavano senza controllo per cui in caso sapete tra l'abruzzo la puglia e il latte c'è ancora la transumanza quindi spesso venivano movimentati animali che non avevano non erano stati sottoposti giusti controlli quindi arrivavano nei pascoli a fraspeci molisani portavano la cruceriosi dalla puglia e oggi attraverso il sistema di georeferenzazione anche dei pascoli e questo non accade e se accade viene immediatamente individuato questo è il mio suggerimento cioè utilizzare gli strumenti che in questi ultimi 30 anni sono stati elaborati bene la ringrazio tanto per questo tuo intervento prego è stato un piacere